Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, spero che tutto vada bene per voi, ma ora passiamo a quello che è l'argomento di oggi. Oggi voglio dare dei voti, dare un voto da 1 a 10, quindi 10 voti, 10 voti quindi dal miglior voto al 10 e al peggiore l'1, a delle situazioni, alle squadre, ai giocatori, ai interpreti di questo campionato. Farò riferimento alle squadre italiane, ma farò riferimento non solo al cammino italiano, ma anche a quello europeo complessivo delle squadre, però riferendomi solo a quelle italiane, quindi direi che adesso vi do la sigla e poi iniziamo. Io sono un tipo positivo, cioè in realtà no, però in questo caso lo sono, quindi parto dal 10 e arriverò in fondo all'1, al peggior voto della stagione. Voto 10 alla Juventus perché semplicemente si riconferma per il settimo anno consecutivo alla guida del campionato, vincendo in uno scudetto il mito, insomma lo scudetto il settimo consecutivo, 36esimo, 34esimo a prescindere da quello che voi pensiate, insomma non mi interessa, in ogni caso sono tantissime e sono più di quelli che hanno vinto gli altri, quindi questo basta e avanza. Se dei campionati non è facile vincerli, qualcuno dirà che rubiamo, qualcuno dirà che è facile vincere in queste condizioni contro squadre meno provanti, quello che volete, ma alla fine conta il fatto che li abbiamo vinti noi e gli altri no. Voto 9 alla Roma rivoluzionata dal nuovo allenatore Di Francesco. Perché metto la Roma? Perché la Roma complessivamente è fatta tantissimo, tanti la davano già fuori dalla lotta Champions, perché insomma Di Francesco non è l'altezza, questo perché quello poi Di Francesco ha zittito tutti, terzo posto meritato, anzi per la squadra avrebbe potuto fare sicuramente di più, ma è chiaro che il primo anno ci possa essere un po' di, insomma di traballare un po', però ragazzi quello che hanno fatto in Champions è unico e hanno fatto meglio di tutti, anche meglio la Juventus, perché alla fine, parliamo chiaro, la semifinale è raggiunta loro e non noi. In ogni caso bravissimi nel cammino europeo, la Roma sta prendendo una dimensione europea che era unica e solo attribuita alla Juventus, e quindi vedremo anche i prossimi anni quello che succederà, quindi complimenti alla Roma. Voto 8 al Napoli perché sì è arrivata a meno 4 dalla Juventus, ma praticamente se rifiutate di giocare e ambire a qualsiasi altra competizione, ovvio che non dico che uno deve puntare al massimo, perché chiaramente uno fa le sue scelte, però essere eliminati dalla Champions League, essere eliminati da una squadra qualsiasi dell'Europa League e non puntare neanche alla Coppa Italia, devo dire che è stata una mancanza di ambizione per una squadra che avrebbe potuto perlomeno portare a casa uno dei tre trofei, non dico il campionato combattutissimo con l'Iventus, ma l'Europa League avrebbe potuto fare molto meglio, contando che alla fine ragazzi, parliamoci chiaro, la finale Atletico-Marsiglia, che finale è? Non potete dirmi che il Napoli fosse più scarso di quel Marsiglia e che non potesse in qualche modo giocarsela con l'Atletico-Madrid, che non è più quello di qualche anno fa. Quindi poche parole, insomma, benissimo in campionato, per quanto comunque abbia avuto un po' un calo alla fine, però incomplessivamente il Napoli non può essere superiore a questa Roma. Voto 7 alla Fiorentina, che è stata ridimensionata dalla Valle all'inizio campionato, perché questi qua vogliono in qualche modo risfarsene, è abbastanza palese, però quello che hanno fatto prima della morte, purtroppo, del capitano Davide Astori è stato esemplare. Hanno fatto un campionato complessivamente molto buono e sopra le aspettative e la spinta, la forza emotiva che ha dato il lutto di un capitano che verrà ricordato per sempre, credo che sia esemplare e gli fa molto onore. Quindi l'orgoglio della Fiorentina, dei giocatori, dei tifosi, dell'allenatore stesso, credo che sia veramente invidiabile. E quindi veramente un posto nei primi posti, insomma, credo che sia meritevole la Fiorentina di esserci. Voto 6 all'Inter, che ha fatto lo stretto indispensabile, arrivando all'ultima del campionato a giocarsi e a meritarsi un quarto posto che gli vale al Champions League. Scorso anno questo quarto posto era Europa League, quest'anno è Champions League, quindi gli va anche bene. Diciamo che quest'anno c'è la più facilità per tutti di prendersi un posto in Champions. C'è a dire però che comunque all'ultimo è sempre un rischio e secondo me l'Inter ha fatto lo stretto e l'inspensabile, contando Spalletti, che secondo me è lui il vero valore aggiunto, e contando questa rosa che ogni anno sembra, insomma, in qualche modo quella rosa che può fare fastidio alla Juventus e ogni anno puntualmente arrivano sempre sotto il podio. Quindi ovviamente 6, ma non di più. 5, l'altra faccia della medaglia, la Lazio. Chi vince viene in qualche modo esaltato, e si prende la Champions League, chi perde resta in Europa League con un posto in meno, il quinto, quindi 5, tra l'altro, quindi due posti. Quindi la cosa combacia. Mi dispiace perché la Lazio ha fatto vedere molto bene le cose molto belle con Inzaghi, che è un autore molto interessante, per quanto ancora molto acervo. Una rosa valutata al massimo. Ciò giocatori di cui non pensavo neanche potessero fare metà di quello che hanno fatto, invece hanno fatto. Parlo di Luis Alberto, parlo stesso immobile. Melinkovic-Savic invece è veramente un potenziale fenomeno, quindi nulla da dire. Però ragazzi, bisogna anche dire che perdere all'ultimo la possibilità di entrare in Champions fa calare ovviamente un po' tutto il voto. Voto 4. Al Milan e alle promesse del tuo fassone Mirabelli. Il Milan, in estate, in questo discorso, sembrava la squadra che avrebbe rivoluzionato il campionato dando filo alla torcia alla Juve. In realtà non ha dato filo alla torcia neanche alla seconda e alla terza perché è arrivata ben sotto. Quindi prendiamoci chiaro, hanno fatto tante promesse, vinciamo qua, vinciamo là, un mercato strampalato senza capo né coda buttando via soldi, anche secondo me, facendo passare per fenomeni giocatori che non erano quando forse l'unico fenomeno è stato lo stesso Bonucci preso alla Juve. Cosa che è la Juve, tra l'altro, l'impatto dell'assenza di Bonucci non è pesato in nessun modo alla Juve quindi alla fine non è che ci abbiano visto molto lungo. Adesso però i problemi che sono sorti con la UEF e così via diciamo che ridimensionano tutto il discorso iniziale dando ragione ai vari d'amico, allo stesso Pallotta della Roma che avevano, insomma, destato qualche critica, qualche dubbio sulla solidità di questo Mila. Voto 3 a ridimensionamento dell'Udinese e tutte quelle squadre che di solito si lottano per la salvezza in modo molto più tranquillo e facendo vedere qualcosa di buono. L'Udinese è veramente un flop. Passare dagli anni di Guidolin agli anni di Del Neri e Oddo e chi cavolo ha finito non mi ricordo neanche più diciamo che è un passo all'indietro. Forse questo modello, quello dell'Udinese tanto esaltato per anni non è più attuale cioè quello di scoprire giovani da divendere e fare plusvalenze e quindi continuare il circolo. Eventualmente hanno finito le cartucce hanno finito i giovani hanno finito i talent che scoprono i giovani e non riescono più a trovare talenti che siano si forti che siano anche in qualche modo monetizzabili. I tempi dei Sancesa, Samoa, Isle e così via sembrerebbero per ora finiti o comunque messi un po' in sordina. Dispiace perché squadre comunque che ci salvano un po', insomma alla fine così sul filo del rasoio evidentemente non è che meritino totalmente questa permanenzina però alla fine qualcuno evidentemente ha fatto peggio di loro era semplicemente più scarso come le tre retrocesse. 2. Al tifo da social voto 2 al tifo da social perché come ogni anno si riconferma non maturo e vede lo sport mediamente come qualcosa, una guerra come la Juve che ruba come il Napoli merda e l'Inter che quest'altro. Diciamo che c'è da dire che il tifo da social su alcune pagine su alcuni appunto commenti commenti e che se le coni in giro ha veramente fatto un passo indietro i dubbi, le lamentere, le polemiche gli attriti, l'acidità che ho letto anche nei confronti della Juventus che mi riguarda sono stati quest'anno molto più pesanti degli altri anni e veramente questa situazione deve finire perché così si vive un calcio in modo veramente non normale e veramente non sano. Voto 1 al giornalismo italiano quello sportivo perché voto 1 e non 2? semplicemente perché dietro a quello che succede tra i tifosi c'è sempre un perché e il perché sono i giornalisti che fomentano giorno dopo giorno e parlo dei notti i solidi notti che fomentano giorno dopo giorno e facendo passare il giornalismo sportivo italiano come qualcosa di seconda mano quando il giornalismo sportivo italiano e non solo dovrebbe essere giornalismo e appunto qualcosa di serio e di cui uno deve essere onorato di farne parte. Ovviamente ci sono persone e qualche nome importante che ancora tiene alto il buon nome posso pensare ai vari appunto cucchi posso pensare i repice posso pensare i sabatini posso pensare i mazzocchi ma sono pochissimi in un'infinità di rosiconi che con quella maglia di tifoso stanno ruinando il calcio perché il problema non è avere la maglia di tifoso ma è come affronti il tuo tifo e come appunto cerchi di passare per parziale quando in realtà insomma sei solo parziale non imparziale ecco. Bene ragazzi il video finisce qui spero che la cosa vi sia piaciuta vi invito come sempre invito sempre a collaborare e partecipare anche voi nei commenti invito quindi voi a scrivere i vostri 10 voti alle 10 squadre giocatori interpreti tifosi non tifosi quello che volete insomma da 1 a 10 o da 10 a 1 i voti di questa stagione che comprende appunto non solo il campionato in sé ma un po' tutto la generalità del fenomeno calcio italiano e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video che sarà come sempre in questo caso Forza Juve che anche quest'anno è promossa a pieni voti ciao paura 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 paura